Ho chiesto all'amico Luigi Di Maio che il reddito di cittadinanza fosse riservato solo ed esclusivamente ai cittadini italiani. Questo mi sembra al minimo indispensabile perché di regali per coloro che italiani non sono, da queste parti se ne fanno anche troppi. Sicuramente ci saranno ricorsi contro ricorsi e chi se ne frega. Però qual è il problema? Questo veramente sono io che sono anziano, forse non lo capisco. Se uno è un lavoratore che ha lavorato a casa mia fisicamente per dieci anni ed è disoccupato ed è regolarmente in Italia, perché non ha addirittura il reddito di cittadinanza? Perché quando non ho tutto per tutti devo darmi un criterio di scelta, il mio criterio di scelta è che prima vengono i cittadini italiani. Si alza la Corte Costituzionale e come è presumibile dice che non funziona così, cosa facciamo? Eh discuterò amabilmente con la Corte Costituzionale.